Non ho una posizione dogmatica sull'autonomia differenziata. Si tratta di una possibilità contemplata dall'articolo 116 della Costituzione, sezione peraltro riformata quando al governo ci stava il centro-sinistra. Gli articoli successivi parlano di obblighi e non di possibilità, come l'obbligo di garantire tutti i diritti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, sia che un cittadino viva a Crotone, sia che viva a Sondrio, come anche l'obbligo della perequazione. In verità, sia la possibilità dell'autonomia differenziata, sia la garanzia dei diritti civili e sociali e l'obbligo della perequazione, non mi sembra, siano stati attuati come prescrive il titolo quinto proprio della Costituzione. Così, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in una intervista al giornale, ho detto più volte che il disegno di legge di Calderoli è come un treno che ha tre vagoni, quello dell'autonomia differenziata, quello dei diritti sociali e civili, non più quantificati secondo il criterio ingiusto della spesa storica, ma secondo i fabbisogni, e quello della perequazione. Se spinto dall'autonomia differenziata, il treno arriva in stazione, dice Occhiuto, e porta con sé anche gli altri due vagoni. Credo sia un grande risultato anche per le regioni del nostro meridione, dove oggi i diritti sociali e civili non sono garantiti nello stesso modo di altre regioni. E per arrivare a un punto di parità servirebbero risorse importanti. Solo a parità di LEP, i livelli essenziali, conclude Occhiuto, posso dire di sì all'autonomia differenziata.